Torino dal 3 al 5 maggio è stata teatro di affidabilità e tecnologie, la manifestazione specialistica di riferimento in Italia per le industrie manifatturiere, i sistemi integrator e i centri di ricerca. La fiera, giunta alla sua decima edizione, ha attratto imprenditori italiani che sono alla ricerca di risposte concrete per implementare il loro modello produttivo in ottica 4.0. Torino, da capitale dell'automotive a fulcro dell'automazione nel nostro paese. La nostra azienda è una azienda che ha sede a Vizcaia, Spagna, 10 km da Bilbao, una delle città principali del Paese Basco. Noi siamo strutturati su tre capannoni e ci occupiamo esclusivamente della revisione e ricondizionamento di tutti i robot al mondo. Quindi fondamentalmente proponiamo macchine usate con un impatto economico nettamente vantaggioso rispetto al nuovo e evidente, ma con una garanzia tale per cui è ulteriormente vincente abbracciare la nostra realtà. Ora, siamo leader in questo settore perché noi facciamo esclusivamente questo. Quindi la nostra azienda si occupa non solo di revisionare la parte meccanica, ma anche la parte ovviamente legata ai cabinet. I marchi fiori all'occhiello per quello che abbiamo a disposizione sono KUKA, FANUC, ABB, Kawasaki, Yaskawa e poi abbiamo anche marche tipo Panasonic, Stauli o quant'altro che però ovviamente sono un po' più di nicchie rispetto alle principali di cui ho appena parlato. Industria 4.0 è vincente per quanto riguarda l'usato, ma esiste anche Reviving 4.0, quindi in realtà si può tranquillamente aderire allo sgravo fiscale o comunque a delle agevolazioni facendo ovviamente ricorso a agenzie di studio sul lavoro che ovviamente possono proporre macchine usate in un'isola magari già preesistente o comunque macchine usate che possano comunque accedere a un'innovazione tecnologica all'interno dell'azienda. Questo fondamentalmente è quello che si viene a proporre. Allo stesso tempo noi abbiamo comunque una struttura tale per cui diamo una garanzia su tutto quello che viene consegnato, su tutti i pezzi di ricambio di sei mesi dal giorno appunto della consegna. In realtà noi siamo apprezzati a livello mondiale dalla piccola impresa alla macro azienda perché appunto riusciamo a ottimizzare il prodotto che andiamo a vendere con una soluzione vincente non solo nell'operato che è la cosa fondamentale il robot deve funzionare, deve fare quel tipo di lavoro, ma allo stesso tempo quello economico. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!